carissimi amici guardate qui cosa succede calcio di munizione fabbrica slo batte veloce fuori gioco guardate qui è fuori gioco di cui non c'è nessuno ma guardate qui guarda linea impassibile tutto regolare e l'azione continua rivediamo rivediamo il fuori gioco fuori gioco è netto momento che fabbrica stocca il pallone è dietro alla linea del difensore anche del campo rispetto alla linea del campo di qua non c'è nessuno quindi più fuori gioco